Se da un lato la Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini nei confronti dell'ex rettore dell'Università Magna Grecia, Giovan Battista De Sarro, del direttore sanitario del Policlinico Mater Domini Caterina De Filippo e dell'ex commissario dell'azienda ospedale aerea universitaria Mater Domini, Giuseppe Giuliano e dell'ex direttore sanitario della stessa azienda Matteo Galletta, perché accusati di aver comunicato un numero non rispondente al vero di posti letto Covid-19, attivabili in 48 ore, dall'altro l'emergenza Covid non è ancora finita. Infatti il reparto di rianimazione del Policlinico di Germanetta è nuovamente sotto pressione, dovuta ai molti ricoveri registrati nelle ultime 48 ore provenienti dagli altri cerintri ABB e SPOC. Si tratta di pazienti affetti da forme gravi di insufficienza respiratoria acuta, secondaria al virus dell'influenza e che sta raggiungendo il suo picco proprio in queste ore. Quasi tutti i pazienti sono molto giovani, alcuni in condizioni anche gravi, al punto da richiedere l'utilizzo della circolazione stracomporea. Attualmente i pazienti sottoposti all'ECMO sono ben 5, di cui 4 affetti da polmonite grave ed uno affetto da una grave forma di insufficienza cardiaca, che ha richiesto il supporto ECMO in configurazione veno-arteriosa.